buonasera la piccola scala presenta tenersi in forma ai tempi della peste carissimi amici e amici vi voglio tutti qui davanti alla televisione perché in questa quarantena non voglio assolutamente che non restiate in forma dovete arrivare a quest'estate perfettamente per la prova costume siete tutti davanti alla televisione cominciamo avanti allora con le braccia 1 2 3 4 5 gambe 1 2 3 4 5 glutei avanti 6 8 l'altra gamba 1 2 3 4 braccia ancora braccia gambe braccia gambe braccia gambe glutei glutei cosce 1 2 3 4 amici vi vedo informissima davanti alla televisione così così non fermatevi 1 2 3 4 braccia ancora su su le braccia su 1 2 3 ancora un'altra serie avanti grazie a tutti grazie a tutti